Abbiamo qui con noi una ragazza che se le canta e se le suona ormai da parecchio tempo è qui con noi perché parleremo innanzitutto di una canzone un singolo, come si diceva una volta, ma si dice ancora adesso che ha anche un videoclip molto particolare che in questo momento gira un po' dappertutto Direzione la vita è un passo dentro un nuovo album intanto buon pomeriggio, Annalisa, grazie per essere qui con noi a Fuorigioco Eccomi, grazie a te, grazie a voi io sono contentissima di essere qua anzi, grazie per questa introduzione sì, è un momento molto bello Direzione la vita diciamo che riassume un po' lo stato d'animo del momento di questa canzone e anche quello che appunto vuole raccontare un po' è il video che abbiamo girato un video che è pieno di riferimenti al nostro cinema qualcuno addirittura ha scritto da qualche parte un video neorealista non lo so, mi sembra un video dove c'è una certa allegria di fondo che fa un po' il contrasto rispetto a una cupezza in cui siamo costretti tutti i giorni se tutto il disco è su questo versante o questo non lo so è un disco che apre un po' la porta non dico allo stupido ottimismo ma a qualcosa di più solare assolutamente sì, ma anche perché no lo stupido ottimismo guarda infatti io no, questo è un po' quello che mi piacerebbe raccontare puntando proprio un po' l'accento sul fatto che a volte la leggerezza e lo stupido ottimismo è tutt'altro che stupido, non lo so la tendenza a prendersi molto sul serio e a dire delle cose per forza impegnate, impegnative non vuol dire essere pieni di contenuti a volte a volte il contenuto e il messaggio onesto, diretto sta nella leggerezza almeno per quanto mi riguardi io vorrei far star bene quelli che sentono la mia musica e non farli essere triste sei d'accordo con uno come Baccarac che diceva che quando le canzoni sono troppo complicate vuol dire che uno non le sa scrivere c'è qualcosa che non va la leggerezza del pop e la semplicità che alle volte si raggiunge anche a caro prezzo perché essere semplice è molto difficile difficilissimo, è la cosa più difficile di tutte beh però a proposito di cose complicate molti dei nostri ascoltatori sanno che Annalise è anche laureata in fisica all'università di Torino questa è una cosa abbastanza complicata almeno per me che ho una formazione diciamo non sei il solo diversa e non sono il solo tu non sai fare le addizioni quello che ci viene in mente mi viene in mente molto banalmente è più difficile arrivare in fondo a un percorso universitario di questo tipo arrivare in fondo a un talent dove anche la concorrenza è immagino molto agguerrita ma guarda sono cose talmente diverse che faccio fatica un po' a paragonarle però quando ero ad amici in televisione mi sentivo è stato difficilissimo però mi sentivo completamente nel mio facevo una cosa nella quale credevi nella quale credevo ma non che non credessi nel mio percorso di studio che ti apparteneva diciamo davanti alla tv quando onestamente uno sente di essere bravo a fare una cosa e punta a quello e quindi questo un po' era un vantaggio poi ci sono mille difficoltà ogni giorno si impara ogni giorno non siamo arrivati da nessuna parte infatti continuo a scrivere canzoni di viaggio di destinazioni direzioni e mai di arrivi chissà come mai in marcia continuamente esatto sono sempre in marcia ma sei stata anche divulgatrice possiamo dire in un'esperienza televisiva parlando proprio di quest'altra tua forte passione di questo tuo interesse scientifico in questo caso assolutamente infatti una cosa che mi rende un sacco felice un sacco fiera è questo programma un documentario rivolto diciamo un po' ai giovani scientifico la prima serie era sulla fisica delle particelle la seconda era invece solo spazio quindi non proprio argomenti così immediati da spiegare da comunicare no 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 cose belle a proposito di questo intanto ringraziamo Annalisa perché ha ingentilito finalmente questo studio solo di maschi perché la nostra speranza che è sparsa sul territorio sta sempre sparsa fuori quindi finalmente siamo contenti di avere una bella ragazza tra e mezzo anno in mezzo a noi ma allora a proposito di cose di fisica io adesso ti faccio riascoltare una cosa che forse tu non ricorderai di qualche anno fa quando un noto giornale provò a farti un esame di fisica e secondo me ti ha dato una risposta molto carina a proposito di una domanda abbastanza banale come spesso facciamo noi giornalisti ascoltate oddio perché la fetta biscottata cade sempre dal lato sbagliato perché pesa di più perché ce l'ho annellata da quella parte lì la legge di Murphy questa era la risposta giusta è la legge di Murphy è la legge di Murphy per me guarda io mi ero incuriosito perché non facendo le divisioni mi sono effettivamente domandato perché effettivamente la fetta di pane cadesse dal lato più pesante però ecco invece una domanda più seria tu sei andata due volte a Sanremo giusto? tre addirittura tre tre volte a Sanremo che rapporto hanno? i cantautori italiani hanno sempre avuto un rapporto un po' complicato con Sanremo tu che rapporto hai adesso col festival? cioè perché molti lo mettevano in contraposizione con i talent dai quali poi tu provieni secondo te ci sono delle somiglianze fra il festival di Sanremo e i talent e tu che rapporto hai col festival? beh allora io intanto ho un bellissimo rapporto con il festival perché la mia carriera la mia crescita è molto legata alle mie partecipazioni che mi hanno insegnato tantissimo e mi hanno dato delle grandi occasioni di poter far sentire un po' di più le mie canzoni al pubblico eccetera per quanto riguarda le somiglianze con i talent beh è un talent compresso cioè lì è tutto tutto insieme mille cose durante il giorno cioè è bello impegnativo Sanremo anche i talent anche amici è stato impegnatissimo però impegnativissimo ma Sanremo è tutto in una settimana cioè invece i talent hai più tempo qualche mese quanto dura una stagione di amici per chi la fa? ma sei mesi ah quindi insomma una cosa del genere poi è graduale insomma lì è una vita però che passi davvero non è come il festival che è chiuso in quella scatola e dove poi non c'è nemmeno quello che nei talent c'è comunque in questo programma c'era il cosiddetto coach il momento in cui ci si prova ci si riprova tutta questa storia anche di avvicinamento una serie di step sopra sulla fisica ma studiare fisica per te era una via di anche per toglierti un po' dalle canzoni e queste cose qua voglio dire uno pensa che fisica sia uno studio molto impegnativo per te non era magari il contrario che invece studiavi fisica e ti sentivi più leggera rispetto alle canzoni rispetto a queste cose qua ma anche non perché mi venisse facile ho fatto una fatica incredibile ad arrivare alla fine e a laurearmi però comunque crearsi vari eccola eccola ma come faccio sono in metropolitana e vado un altro bar come mai prende qui ma chi ma vale quanto l'affetto la fa la domanda faccia la domanda la domanda in questa come mai in metropolitana prende sto ormando mi guardano tutti come mai perché avranno messo un wifi ecco ha visto rispondo scusi siamo in metropolitana sì o no ma come sì o no gialla gialla linea gialla questa è la linea gialla oltre la quale non meglio non andare mai tra l'altro esatto la famosa linea gialla comportateli bene con la no no noi lamentavamo la tua assenza eh Rosanna non è che stessimo facendo chissà cosa sì è vero posso confermare intanto grazie a Rosanna Sferrazza le direzioni della metropolitana le direzioni della musica di Anna Lisa direzione la vita e questo singolo che adesso ascoltiamo insieme c'è una canzone che parla di te a tutti gli effetti Anna Lisa ha frequentato i talent è andata a Sanremo e questo non significa che poi perché siamo un po' manichèi no su questo fare i talent significa magari non essere poi autori delle proprie canzoni eh oppure il festival di Sanremo è dedicato solo a un certo tipo di musicisti è tutto falso potremmo dire che queste sono zone che si frequentano poi quello che conta credo che sia la personalità e l'attitudine no? io dico proprio di sì ognuno è diverso e ognuno vive un certo tipo di possibilità eh al pari delle sue insomma ecco ti faccio una domanda scusa di un ascoltatore quindi ambasciatore non portapene sì sì tutti quanti sulla nostra pagina facebook ma io ricambio i cuori dov'è like facciamo i giovani like like su like e c'è anche un ascoltatore che ha l'ardimento l'ardire di chiederti di cantare un pezzettino di direzione alla vita a cappella beh a cappella ci vorrebbero altre voci non lo so vuoi fare qualcosa ma certo vado io sono ben felice posso? ma altro che dov'è il Neumann? venga qua si avvicini al Neumann venga qua si avvicino al Neumann eccolo qua beh sì in effetti qua è tutta un'altra cosa si sente già dalla profondità della voce vado c'è una canzone che parla di te l'aria che soffia dal mare in città un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero c'è il tuo sorriso e Parigi in un film c'è una ragazza che balla su un tram un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva direzione la vita bravi avete rovinato tutto volevo fare il finale era un raglio mi rendo conto abbiamo ragliato con Annalisa allora intanto posso fare una domanda ad Annalisa bravissima tra l'altro merce rara facciamo un applauso Annalisa noi non abbiamo il pubblico tra poco carini però l'abbiamo virtuale ecco a proposito di questo tu sei un'artista donna tra l'altro insomma impegnata anche a far divulgare cose messaggi veri come quelli della fisica è difficile fare l'artista oggi cioè qual è un obiettivo che uno si può dare da donna oggi è più complicato secondo te affermarsi da artista femminile in questo paese ma guarda non so dire se è più complicato in realtà io credo che sia complicato in generale in questo momento te lo chiedo perché sono giornate complicate in cui raccontiamo delle difficoltà che hanno soprattutto nel campo artistico le attrici a confrontarsi con un certo tipo di quindi la mia domanda è circostanziata in questo senso certo ma guarda io per quello che ti posso dire è stato il mio percorso è stato un percorso a piccoli passi è sempre bellissimo io devo dire ho incontrato un sacco di persone fantastiche sul mio cammino quindi forse sono stata fortunata ma forse no forse sempre sull'onda dell'entusiasmo e della positività forse ci sono tante davvero persone competenti che sanno fare il proprio lavoro benissimo e che ti aiutano e ti danno dei consigli ne ho incontrate tantissime a partire da quando ho fatto appunto amici passando per Sanremo per tutti i direttori artistici che ho incontrato quando sono andata lì ho imparato tantissime cose la mia casa discografica e credo che il segreto sia un po' saper ascoltarsi sapere quali sono le proprie possibilità essere coscienti di se stessi e puntare sui propri talenti riconoscerli e ognuno ne ha però è importante sapere quali sono e viceversa ascoltare quello che ti dicono gli altri saper ascoltare anche gli altri ascoltarsi ascoltare gli altri io credo che insomma questo è stato il mio percorso e mi auguro di andare avanti così ora dovrei mettere a disposizione queste esperienze anche questo sapere ascoltare dei nuovi concorrenti di un talent perché sarai dalla parte diciamo dei ragazzi questa volta nelle vesti del coach come accennavamo anche prima ma guarda questo è un bel punto interrogativo perché vabbè tanto premetto che sarebbe fighissimo poi pure io ho sentito questi rumors e e niente hanno avuto l'accortezza di avvisare di avvisare ma male come corte no no però sarebbe bello e vediamo un po' che cosa che cosa succede insomma ciao a tutti mi chiedevo al 335 699 2949 se lo chiede Giovanni che non sono io mi chiedevo e chiedo ad Anna Lisa ma è così ritornando un po' su questo tema ma è così essenziale il talent oggi voglio dire senza parteciparvi non sarebbe diventata l'artista che è? allora io credo che rispetto a quando ho fatto il talent io che si parla del 2010 a oggi le cose sono cambiate nel senso che oggi per farsi notare ci sono anche tanti altri mezzi cioè youtube ci sono i social instagram eccetera eccetera quindi un modo per farsi notare c'è è difficile riuscire a farsi notare da così tante persone che poi riesci a in qualche modo crearti un pubblico no? farlo tuo fidelizzarlo perché questo poi è è il difficile quando ho fatto il talent io questi mezzi c'erano già ma non erano ancora al massimo sì esatto era diverso è vero e comunque l'ondata di gente che ti vede che ti conosce che impara a viverti che si ha quando sei lì è tutta un'altra cosa posso dire che questa cosa del talent sostituisce un po' una cosa che improvvisamente è mancata cioè le piccole etichette indipendenti anche quelli che erano i talent scout nella generazione che ti precede una volta la filiera era diversa forse i talent sono questo probabilmente sì è semplicemente l'evoluzione della musica della discografia credo che sia un po' questa roba qua e allora a parte la cadenza di Annalisa che mi riconcilia con casa mia che bello mi ricordo davvero di Savona che gioia di Savona e dintorni caro Montenotte spotorno insomma la Ligure una terra alleggiadra io vorrei far sentire ad Annalisa che la conosce benissimo una canzone che a me piace particolarmente che è di un po' di anni fa e del 2014 sempre su questa vena di struggimento ma anche di un certo ottimismo per cui si sente il presente e si sente solo quello certe volte è giusto così sento solo il presente Annalisa Annalisa di pochi anni fa il presente il futuro la musica che arriva è un disco di cui sicuramente parleremo ancora allora intanto alcune curiosità per i nostri ascoltatori Annalisa ha due gatti e due cani giusto? esatto esattamente sul collo un gatto non lo chiediamo non vi facciamo vedere ma ce l'ha eccolo qua non è in zone si può vedere esatto ma li tieni separati tra di loro cani e gatti no? sono amici no sono separati ognuno ha una zona diversa della casa l'altra curiosità che avevo io è tu hai cantato Whatsapp delle Fornamblonze al provino per amici sì l'ultimo disco che hai comprato e che consiglieresti cioè un disco che ti è piaciuto particolarmente adesso allora ce ne sono diversi uno dai uno allora ho comprato l'ultimo disco di Lana del Rey mi è piaciuto moltissimo e se posso dire dentro c'è un pezzo che mi è piaciuto più degli altri che non è stato singolo che si chiama In My Feelings ed è bellissimo basta Michela ti scrive al 335-699-2949 tanti tanti complimenti a una persona così vera umile sempre disponibile che non si limita a cantare ma si dedica con tutta se stessa al suo pubblico beh grazie Michela a questo messaggio di Michela ringraziamo moltissimo Annalisa per essere stata con noi grazie a voi davvero sì ringraziamo Annalisa e la sua voce soprattutto la salutiamo noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio fuorigioco oltre la linea delle notizie grazie a tutti